amici ma soprattutto nemici bianconeri buona buongiorno buongiorno stavo dicendo buonasera ma mi sono subito ripreso buongiorno buongiorno ho visto questa notizia che sta circolando nel web di danilo danilo si dice dovrebbe passare al napoli sono a voce di mercato che in questo momento girano e ricirano così come se fossero trotto le impazzite ormai ora poi quando si avvicini al mercato e poi quando saremo dentro il mercato ci sarà sempre la valle di nomi e di situazioni di tutto e di più ecco però io dico a livello di logica che usando diciamo la logica non è che voglio entrare nel diciamo una laurea una scienza particolare la logica quella proprio quella basilare quella basilare ma se noi siamo contati se noi siamo contati in difesa c'è parlare di cessioni a lei quando secondo me è veramente ridicolo auto lesionistico che cosa cosa dobbiamo vendere noi che siamo completamente contati prima fagioli da classe lui adesso danilo ma di che stiamo parlando noi dobbiamo semplicemente fare due acquisti due e basta o li facciamo con i prestiti o li facciamo con la film domestic o la facciamo con l'agos o lo facciamo con questo ragazzo volete voi sulla parola o ce le giochiamo a poker o ce le giochiamo a scopa o ce le giochiamo ruba marzo come volete volete ma noi dobbiamo fare due acquisti e i soldi devono uscire non dalle vendite ma dalla proprietà perché siamo in emergenza e quando ci sono le emergenze la proprietà si deve mettere le mani in tasca e dire ok facciamo magari due acquisti che dovrebbero che dobbiamo fare a giugno e anticipiamo a gennaio punto si fa così perché siamo in emergenza non è che si possono vogliere tasselli in una questione di emergenza non si possono agli tasselli anche se sia anche se danilo non è quello che però oggi gioca danilo quindi secondo me la cica la logica bassa bassa stagionamento basso non è perché proprio cosa vuoi fare vuoi vendere davino che prende qualcun altro difesa non penso perché non è liberato che io prendere uno quello che posso studiare bremer ci fosserebbe anche da sostituire caballo ma per ora bremer magari sia uno che sa fare il tessino sinistro e centrale sarebbe meglio per questo calde che sembra baschi rotta meno a me a me a me a me piace baschi rotto di loro local 10 e poi uno che dovrebbe in teoria in teoria sostituire farne da rifiato a a blau ma lì ancora la società non si è spesa anzi si è espressa però non so se si è espressa in maniera diciamo veritiera sull'acquisto di questo fantomatico attaccante perché da quelle dalle parole di giuntoli si evince che loro stanno puntando sul recupero totale di milic però secondo me puntare su milic a proposito io mi sono visto qualche gol di milic oggi ho visto qualche spezzone visto qualche highlights e milic è un grande giocatore ragazzi milic è un grande giocatore purtroppo è stato sfortunato perché purtroppo ha avuto questi due crociati che gli hanno praticamente distrutto la carriera perché perché purtroppo queste crociate lo hanno hanno lo hanno spezzato in due però diciamo a livello dna questo è un grande era è un grande attaccante veramente sapeva calciare di sinistro calci di punizione questo era un grande attaccante colpe di testa questo è un grande attaccante peccato peccato purtroppo è così il calciatore è così quando si sono questi infortuni infortuni così pesanti come il crociato non si sa più come si riprende anche per questo non dobbiamo prendere un giocatore buono in difesa perché è vero che ormai la scienza la medicina fa questo miracolo tutto quello che volete però un crociato è sempre un crociato non lo so diamo la prova di chiesa che non è ritornato più quello di una volta e demirale non lo so io ho perso il a livello diciamo di radar ho perso un pochino la situazione demirale del piero non è tornato quello di una volta i crociati sono sempre crociati quindi bisogna prendere un difensore sia la doppia funzionalità sarebbe ancora ancora meglio quindi è quindi poi l'attaccante come ho detto prima bisogna vedere se la vero sono congiunto le sta dicendo la verità o sta dicendo una bugia non lo so è un rischio puntare ancora su milic perché milic che secondo me ormai non ti dà più garanzia nella maniera più assoluta nella maniera più assoluta mi dispiace ma non mi dà più garanzia non posso rischiare ma anche noi che poi se ne parla giugno di riconditi di questo si fa male nuovamente un attaccante secondo me ci vuole come il palo attaccante e direttore basta chiuso e di non bene parlare di recessione mi viene l'indicestione mi viene mi viene mi viene l'acido mi viene il giusto mi viene parlare di gestione in questo momento storico dove siamo completamente falcidiati dalle dalle dagli infortuni la cassa la devono trovare non mi interessa un caso è che la devo trovare la cassa devo uscire sotto perché siamo falcidiati punto oggi a prescindere dagli infortunati a prescindere da tutto a prescindere dalla dalla situazione emblematica purtroppo che stiamo attraversando dobbiamo assolutamente portare dalla nostra parte testuale parole di mister tiago motta dobbiamo portare la partita ma non la partita dobbiamo portare i punti dalla nostra parte la partita non mi interessa come ho detto ieri o di culo di straculo di cortomuso o di pullman dietro non mi interessa niente siamo in una fase di emergente quindi noi ci posso fare non possiamo non possiamo puntare a bel gioco non possiamo puntare a qualcosa di costruttivo ecco purtroppo bisogna presente guardare il presente il presente catastrofico catastrofico quindi dobbiamo portare a a casa questi tre punti sperare che in settimana qualcuno possa recuperare e guardare a guarda e guardare giorno per giorno partita dopo partita tutto lì ragazzi non c'è niente da fare io ormai quello che devo dire l'ho detto ormai purtroppo gli infortuni sono troppi sono troppi non si recupera nessuno facciamo spollucci facciamo buon viso a cattivo sorte e ragazze che vi posso fare speriamo che questa sera nasca veramente giampaolo parla loro sono competitivi anche nonostante l'emergenza ma questo è vero infatti noi a legge oggi nonostante tutto dobbiamo vincere non accetto nessun pareggio figuratevi alla sconvita dobbiamo vincere assolutamente perché in questa settimana gli scontri dirette delle altre squadre possono farci sì far sì che in caso di vittoria la classifica la si può rimodellare ragazzi io casma ci sentiamo dopo qualche partita di napoli inter non lo so ci sentiamo e vi abbraccio vi voglio bene e come sempre massicci incassati fino alla fine forza giue